Buongiorno a tutti, buongiorno! Eccoci a quel che passa il convento, tutti pronti per cucinare con noi nella nostra coloratissima cucina. E vi auguriamo che sia coloratissima anche la vostra giornata, vero Don Domenico? Altrettanto anche da me, saluto tutti! Buongiorno, buongiorno e buongiorno ai nostri assaggiatori Anna Maria e Carlo! Buongiorno a tutti! Buongiorno coloratissimo! Un buongiorno coloratissimo per tutti, così come la ricetta di Don Domenico, che è molto verde, come al solito, è molto ortesca, posso dire. Dall'orto escono soprattutto i portaggi verdi. È molto verde. Don Domenico, che cosa sono questi? Ho portato i cardi. E vai Don Domenico, ci facciamo un selfie, questo proprio non me l'aspettavo! Con i cardi? I cardi, c'entra avanti l'Inter! Il giocatore dell'Inter! Ma no, ha portati i cardi questi qua, la verdura! Si credeva, credeva, il giocatore dell'Inter che risate! È un giocatore dell'orto! È un giocatore dell'orto! Vabbè, però farsi un selfie col cardo non ci sta male, Carlo! Don Domenico, è un ortaggio buonissimo, forse poco conosciuto. Ci fate vedere come si pulisce? Sì, allora, bisogna togliere questi filamenti. Sì! Ovviamente il cardo si presenta come un grande sedano. È molto più lungo, quindi bisogna togliere le foglie. Certo! E scartare, diciamo, le coste che sono vuote, perché devono essere piene. Ecco, e voi lo coltivate nel vostro orto? Certo che lo coltivo. È una leccornia, il cardo. È molto delicato. Sì, è molto delicato. Ha il sapore un po' di carciofo, ma in realtà è... è cardo. Io direi che forse è la mamma del carciofo, perché all'inizio non esistevano i carciofi, capite? Allo stato naturale si trovavano questi. Perché sono più selvatici. Sono più selvatici. Però invece come i sapore alla fine sono più delicati. Si mettono comunque nell'acqua acidulata. Sì, acidulata con un po' di limone. Perché sennò si fanno subito nere. Diventano nere. E anche le mani, quando si puliscono i cardi, diventano un po' nere, vero? Sarebbe meglio usare i guanti. Meglio i guanti, sì, sì. Con il limone poi si toglie. Don Domenico li ha già allessati. Adesso vi fa vedere come compone lo sformato, fate, no? Lo sformato, lo sformato di ricardi. In bianco, in bianco. Cosa vi do? Poi mettiamo, ecco, sul fondo, un po' di pan grattato. Pan grattato. Poi cosa vi passo? Poi mi passo un po' di besciamella. Besciamella. Ecco, magari se mi dai un cucchiaio è meglio. Un cucchiaio. Questo è un piatto succulento, eh? Sì, sì. Molto delicato. Si può fare come antipasto, come secondo. Ci sono alcune regioni d'Italia dove preparano questo piatto proprio per le feste natalizie anche. Insomma, si fa... Perché è un ortaggio invernale in realtà. Sì, sì. Si fanno i fritti, per esempio, nel periodo natalizio. Certo. E qui penso che va bene. Ecco. Facciamo uno strato. Quindi facciamo uno strato di pan grattato, di besciamella, di parmigiano e poi si fa uno strato di cardilessi. Quindi uno sformato, uno sopra l'altro. Sformato, sì, sì. Adesso facciamo un altro... Allo stesso modo. Benissimo. Quindi besciamella. Bene. Aggiungo di nuovo il parmigiano. Un po', mettiamocene un po' di più, donne, no? Così facciamo ancora uno strato di... Facciamo un altro strato, allora. Quindi tutti quelli che avete, li mettete uno sopra l'altro fino a che non finite i vostri ingredienti. È un peccato farli rimanere. Bisogna usarli tutti perché il cardo fa molto bene. Ah, fa bene, tra l'altro non solo è buono ma fa bene. Penso che cura un po' tutte le malattie del filicato. Addirittura. Sì, sì. Ecco qui. Aiuta il colesterolo, no? La glicemia. Certo. Quindi ecco, fa tanto bene. Allora, quindi... Ha problemi di reni pure, quindi ecco. Di tutto. Ne trova dei benefici. Quindi chiudiamo poi con lo strato di besciamella e poi il pan grattato. Un po' di fiocchetti di burro. E dei fiocchettini di burro. Sì. E inforniamo a che temperatura e per quanto tempo. Allora, una mezz'oretta a 200 gradi. Ah, benissimo. Quindi mezz'oretta a 200 gradi e avrete veramente una leccornia. E vi ci fate anche il selfie prima di mangiarlo, come dice Carlo. E allora, Don Domenico, siete pronti per chiamare la nostra ospite di oggi? Prontissimo. E' nata da una musica che sta nel cuore di tutti noi italiani. Buongiorno. Buongiorno, Don Domenico. Buongiorno. 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 Bella, bella questa canzone dei Poo, che ormai insomma sono uno dei gruppi più italiani che ci siano. E abbiamo Imma Savignano che viene da Sturno in provincia di Avellino. Allora, Imma è una bravissima chef, quindi ci farà delle ricette deliziose e inizieremo con cosa, Imma? Triteremo uno scalogno. Quindi l'ingrediente segreto, Don Domenico, l'indizio segreto di oggi è uno scalogno. E' una specie tra cipolla e aglio. A chi tocca? A chi tocca? A chi tocca, Imma? Allora, facciamolo fare a Don Domenico. Prego. Proprio Don Domenico, se proprio insistete. E allora, tritiamo lo scalogno e poi vedremo che ricetta saporitissima faremo con Imma, la prima di tutte le sue ricette. A tra poco! Eccoci qua, buongiorno! E ben arrivati a quel che passa il convento, Imma, con questa canzone ci sembra di stare a un concerto oggi. Che bello, che bello, quindi tutta allegria, tutto colore, abbiamo detto con i nostri assaggiatori e Don Domenico. E iniziamo a cucinare con Imma Savignano che viene da Sturno in provincia di Avellino. Una chef che ci farà delle ottime ricette. Abbiamo già tritato lo scalogno e abbiamo qui delle zucchine. Che cosa ci faremo con tutti questi ingredienti? Allora, le zucchine le dobbiamo ridurre a rondelle. Però dici prima il titolo della ricetta. Posso svelarlo adesso? Sì, adesso lo puoi dire, dai! Allora, la ricetta che faremo saranno delle crespelle con una farina di ceci, ripiene con ricotta, salmone e zucchine. E già il titolo, Don Domenico, io mi sento già piena! Gli ingredienti sono vari! Che bontà! Quindi prendete carta e penna e segnatevi gli ingredienti. Per le crespelle occorrono 150 grammi di farina di ceci, 50 grammi di farina 00, 500 millilitri di latte, 3 uova, del sale e poi per il ripieno, 3 zucchine medie, 1 scalogno, 500 grammi di ricotta, 50 grammi di panna da cucina, 80 grammi di parmigiano, 300 grammi di salmone affumicato, 60 grammi di olio extravergine d'oliva e del sale. Allora, ingredienti semplicissimi mi incuriosiscono queste crespelle con la farina di ceci, quindi non sono le solite. Iniziamo con la preparazione. Iniziamo la nostra preparazione. Quindi le zucchine vanno tagliate, hai detto, a rondelle. Io ne do una a Don Domenico, così puoi iniziare a tagliarle. E tagliamole, tagliamole a pezzettini, questo lo posso portare via io, perché è una ricetta, Imma, che ti sei, anche questa è inventata come tutte le tue ricette, no? Sì, ho creato questa ricetta pensando a degli ingredienti che possano essere adatti un po' a tutti i palati. Quindi le zucchine è un ortaggio che piace sempre, è prettamente estivo, però attualmente riusciamo a trovarlo un po' in tutte le stagioni. E il salmone, come tipologia di pesce, è un pesce gustoso, quindi piace. Poi l'accoppiamento è buonissimo, eh? L'accoppiamento è ottimo e quindi noi riusciremo a preparare una ricetta che si potrà usare sia quotidianamente oppure sfoggiare con gli amici in qualche cena, oppure in qualche giorno di festa, per un compleanno o un evento. Allora io direi di andare subito ai fornelli, perché le zucchine sono state tagliate, lo scalogno è tritato, eccoci pronti, venite Don Domenico, perché a questo punto dobbiamo far soffriggere un po' le zucchine. Don Domenico, dite anche la vostra, perché le zucchine vanno mangiate? Vanno mangiate perché fanno molto bene, ecco contengono molta acqua e come diceva Imma è un ortaggio soprattutto estivo, anche se si può trovare sempre in qualsiasi periodo, però se li vogliamo gustare nella loro bontà dobbiamo scegliere la stagione giusta e quindi un ortaggio che non deve mai mancare. Certo, sapete cosa mi sorprende sempre di Imma Don Domenico che è un'amica di quel che passa il convento, insomma è proprio una nostra affezionata telespettatrice e insomma noi la invitiamo sempre con gran piacere. Mi colpisce il fatto che utilizza sempre ingredienti naturali e poi soprattutto molto vari, perché comunque tu sei una abituata anche alla povertà della terra, i tuoi genitori ti hanno abituato proprio con il loro lavoro, quindi a dare la giusta importanza ai prodotti della terra, vero? E' importante che quotidianamente si tenga sempre presente da dove si viene, cioè da dove si è partiti per andare lontano e quindi quando pensiamo a quello che sarà il nostro futuro oppure quello che dovranno essere i nostri prossimi passi dobbiamo pensare sempre da dove siamo partiti. E tu hai delle basi molto solide perché tuo padre e tua madre appunto sono persone semplici ma dei grandi valori. Salutiamoli, quindi come si chiamano tuo padre e tua madre? Vincenzo e Carmelina. Vincenzo e Carmelina, sempre di Sturno. Sì, sì, sì. E quindi hanno cresciuto una figlia bella e soprattutto in gamba, perché guardate insomma che cosa sa fare. Allora, lasciamo soffriggere le zucchine e intanto possiamo cominciare a preparare la nostra crema. Io direi di non lasciarle abbandonate. No, no, no. È vero? Don Domenico, state attenti alle zucchine perché se si bruciano queste sono le zucchine vostre. Cioè sarà un solo colpevole, sarà lui. Allora, vogliamo quindi passare di qua a far vedere come si prepara la pastella per le crespelle. Quindi prendiamo una ciotola e mischiamo i vari ingredienti. Mischiamo le due farine. Allora, ve li ripeto, quindi passo passo, 150 grammi di farina di ceci. Eccola qui. Ecco, che questo è l'ingrediente più sfizioso, particolare e anche salutare che c'è. Poi? Poi mettiamo la farina bianca. La farina bianca, solo 50 grammi di farina bianca. E poi? Ok, mettiamo il latte. Il latte, 500 millilitri di latte. Noi ovviamente come il solito stiamo facendo una dose ridotta, quindi per farvi vedere. E poi le uova. Le uova. Ti serve una forchetta per lavorare tutto? Prendiamo una frusta. Una frusta, vero? Come vengono le zucchine Don Domenico? Benissimo. E tu le fai spesso queste crespelle, Imma? Allora, le crespelle è un piatto versatile. Sì. Lo possiamo usare in tanti modi. Ok, possiamo farle salate, possiamo farle dolci, potremmo anche creare una lasagna. È vero. A strati, usando le varie crespelle. Le varie crespelle, certo. Oppure le possiamo chiudere in tanti modi. Allora, c'è il portafoglio, c'è il fagottino. Adesso ci fai vedere come si chiudono. Insomma, siamo curiosi di sapere quali sono le varie forme che si possono dare alle crespelle. Però con questi ingredienti qui, con la farina di ceci, questo è un piatto prettamente rustico. O può essere anche dolce? No, questo qui è salato. Come piatto si annovera nella categoria del salato. Certo. Allora, la nostra pastella è pronta. L'importante è che non ci siano grumi, altrimenti va passata con un colino, dove i grumi poi rimarrebbero e lascierebbero cadere la pastella fluida. Quanto dovrebbe riposare? È in frigorifero? In frigorifero a una temperatura quindi non alta, bastano una ventina di minuti. Quindi voi fatela riposare a casa se la state preparando insieme a noi, noi non abbiamo il tempo e allora andiamo a fare le crespelle. Don Domenico, vi raggiungiamo con gioia. Va bene. Eccoci qua, prendo una padellina. Imma, fai tutto tu. Ok. Perché adesso la devi imburrare? Vuoi un cucchiaio, Imma? Usiamo un pochino di burro sul fondo della padella, naturalmente la padella antiaderente è ottima per fare le crespelle. Mettiamola più avanti, ecco qui. La padella è antiaderente e si unge con un po' di burro. Il burro potremmo pure metterlo in una ciotolina già sciolto con un pennellino. Possiamo usare un pennellino per la nostra... Se vogliamo accelerare i tempi. Esattamente, per la nostra pentola. E poi ti serve un mestolino. Io prendo un mestolo e... E cominci a fare queste crespelle che devono essere comunque molto sottili. Don Domenico, si vede insomma che è una ragazza abituata anche al sacrificio, come sono un po' tutte le famiglie italiane, specialmente quelle che hanno genitori, nonni che hanno vissuto il dopoguerra, perché sono tutte le nostre famiglie, insomma, vengono da quell'esperienza, quindi sanno che cosa sono i veri sacrifici. Sì, sono abituati al sacrificio e questi valori cercano di inculcarli anche ai loro figli. E quando i figli seguono l'esempio dei genitori, possono essere sicuri che la loro famiglia proprio ricopierà le stesse caratteristiche dei genitori. Allora, quindi, vediamo un poco, si deve staccare, abbiamo detto. La prima cosa che si staccano sono i bordi, si cominciano a staccare e poi la parte centrale. Bene. Per i ceci, Don Domenico. Sì, dimmi. Voi li usate spesso, durante la settimana, quante volte, per quanto riguarda i legumi, cosa pensate? Allora, noi i legumi li usiamo soprattutto l'inverno, ma non soltanto noi monici, è una norma un po' generale in tutte le famiglie, perché fa freddo, contengono anche molte proteine, poi, ecco, piacciono di più i legumi d'inverno. Però, per me, ecco, l'optimum sarebbe se anche d'estate, ecco, si usano, si possono usare in tanti modi, no? Combinati con la pasta, per esempio, però non dovrebbero mai mancare, perché mettendo più legumi noi eliminiamo anche più carne. Certo, è vero. È fondamentale. Io vorrei dire una cosa a Imma, no? Ha usato il burro. Imma, se, per esempio, metti l'olio extravergine, appena viene spremuto, no? Sì. Guarda, e non hai l'idea quanto è buono. Sì, 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 potrebbe anche essere fatto con l'olio. È un modo anche per assabotare se l'olio è di buona qualità. Con le crespelle vanno bene. Don Domenico, però, io vi devo dire un'altra cosa. Siccome noi qua dobbiamo correre, perché dobbiamo far vedere anche come continua la ricetta, vi dobbiamo lasciare di nuovo a ricontrollare le zucchine e a fare un po' di crespelle. Va bene, non ti preoccupare. Non vi lasciamo da solo. Va bene. Chi chiamiamo, Anna Maria? Chi vuoi, per me... Anna Maria, dai, vieni a dare una mano a Don Domenico. Io devo dire che va bene l'uno e l'altro, altrimenti... Tutti e due sono bravissimi. Ecco, sono tutti e due bravi. Però, essendo una cosa, questa è le crespelle, è più femminile. E anche Carlo deve impegnare a farsi i selfie col cardo. Allora, noi torniamo qui, prendiamo una ciotola, perché dobbiamo proseguire la ricetta. Quindi adesso cosa facciamo? Facciamo la crema. Sì. Che useremo per il ripieno. Benissimo. Quindi ti do la ricotta. Sarebbero 500 grammi di ricotta, eh. Con questa dose che ci hai dato, quante crespelle ci vengono su per giù? Una decina. Una decina. Quindi la ricotta, che altro aggiungiamo? La panna da cucina. La panna da cucina, 50 grammi. E il parmigiano, 80 grammi. E in realtà la nostra crema, il nostro ripieno è pronto. Sì. Giusto? Molto semplice. Un po' naturalmente, come si dice in gergo, va aggiustato di sale. Nel senso che può essere assaggiato e se si gradisce un sapore più sapido, si va a mettere del sale. Si aggiunge un po' di sale. Però, avendo già il parmigiano, la quantità di sale è minore. Allora, questa crema, questo ripieno deve essere piuttosto liscio, quindi una volta lavorato bene con la forchetta, magari potete anche passarlo un po' con il mini peamer, giusto per renderlo ancora più cremoso. Per creare una crema. Per creare una crema. Siamo solo a metà di questa ricetta e ci aspettano altre tantissime sorprese. Quindi mi raccomando, tutti qui tra pochissimi minuti. Eccoci qui, siamo tornati, stiamo cucinando con la bravissima Imma, che viene da Sturno, in provincia di Avellino. E guardate, insomma, quanto è brava e precisa. Vedete come ha messo le zucchine una volta cotte in padella, noi le facciamo tutte ammucchiate. Invece lei, proprio un'arte sopraffina. Solo che mi sorge un dubbio. Sì. Abbiamo lasciato da solo Don Domenico. Sì. Non so se abbia messo il sale alle zucchine. Ce l'avete messo? No. No. Don Domenico. Mi fa male. Dobbiamo lasciarci attenti. Mettiamo un po' di sale sulle zucchine. Ma ci vuole quello giusto. Rimediamo all'errore. Però devo fare i miei complimenti anche ad Anna Maria, che ha aiutato Don Domenico a fare delle bellissime crespelle. Belle, belle. Allora, facciamo adesso, cominciamo la composizione. Però adesso dobbiamo, Don Domenico, creare il piatto. Vediamo come si fa. Allora, prendiamo la nostra crespella. Perfetto. Ecco, facci vedere proprio. E la crema di ricotta. Allora, vieni più qua, facci vedere bene quindi come la metti. Quindi la crespella, ci metti sopra la crema di ricotta e la sparmiamo su una metà. Solo su metà, eh? Solo su metà crespella. Poi prendiamo le zucchine e il salmone. Ecco, allora, facci vedere. Le zucchine vanno poste nella parte sinistra. Quindi la parte quella della crema di ricotta. Sì. Ci si mettono? Nella parte sinistra. Così. Quindi, mi raccomando, non vi sbagliate con destra e sinistra, eh? Allora. E vanno sistemate ordinatamente, diciamo. Perché Imma è una precisissima. In cucina, ecco sì. Poi prendiamo il salmone. Il salmone. E lo sistemiamo nell'altra parte. Benissimo. Sempre in modo ordinato. Certo. Da un lato le zucchine e dall'altro lato il salmone. Quindi, ecco, tutto da un lato. Da una parte le zucchine e dall'altro il salmone. Benissimo. E poi facci vedere come le chiudi. Pieghiamo la crespella. Sì. Prima a metà. Sì. Poi dopo la ripieghiamo a metà su se stessa. Quindi a portafogli questa, eh? A portafogli. Ecco, guardate bene. Questo effetto. Le zucchine sopra. Escono un po'. E il salmone sotto. Quindi è bello anche l'effetto visivo perché escono un pochino fuori, eh? Le mettiamo in una teglia, deve essere imburrata la teglia. Le sistemiamo in una teglia imburrata o con carta da forno. Con carta da forno, certo. Possiamo scegliere di farlo. Questa qui. E le sistemiamo. E le sistemiamo. Allora, facciamone altre due per poterle poi infornare il nostro piatto. E nel frattempo io vorrei sapere come va il selfie di Carlo. Con i cardi. Chiedo scusa per la gaffe. Però io, noi avevo capito male, li chiamiamo gobbi a Roma. Ah, i gobbi. E quindi avevo capito, non i cardi. Però devo dire, così sono buoni. Ma io da bambino non li creativo assolutamente. Non ne volevo sapere di queste cose. Come del resto tutti i bambini. Adesso li adoro in qualsiasi maniera vengono fatti. E invece che ne pensa Anna Maria? Allora, io sono contenta perché questo è un modo di fare i cardi, come lo facciamo anche noi nel Veneto, così asformato. Ma anche lo facciamo con il risotto, con cardi e la bosega. Cos'è la bosega? La bosega è un pesce del laguna di Venezia. Oh, la bona è di Venezia. Eh sì, è di Venezia. Ed è un modo molto... Però sono contenta perché li facciamo anche noi in lo stesso modo che la fatti Don Domenico. Ah sì? Eh sì. Don Domenico, sono buoni anche con la salsa di pomodoro, un po' di mozzarella. Insomma, sono molto versati i cardi. Sono buonissimi anche i fritti in pastella. Sì, vero, vero. Allora, ecco qui. Vedete, noi ne abbiamo messe solo tre. Poi voi vi regolate a seconda di quante persone siete. Sono tre, uno, due, tre, eh? Non ci sta per voi oggi. Sono un pasto completo. Come vanno... Vanno infornate. Sono pronti per infornare. Sono pronte o con qualche fiocchetto di burro. Dipende quanti grassi vogliamo immettere. Se vogliamo stare leggeri, quindi possiamo farlo anche così. Che temperature e per quanto tempo? 180-200 gradi, dipende un po' dai forni, perché a casa magari chi ce l'ha elettrico, chi ce l'ha gas, super giù. Una ventina di minuti. 20 minuti, quindi 180 gradi, una ventina di minuti vi regolate quando sono belle croccantine. Gratinate. Allora, a questo punto iniziamo subito con l'altra ricetta, che è pure una ricetta rustica, ma molto, molto bella da vedere. Cosa facciamo, Imma? Palline di ricotta su una macedonia di verdure. E fermati qua, perché non vogliamo svelare niente di più. Dovete seguire la ricetta passo passo. Io vi do gli ingredienti, così ve la segnate e la rifate insieme a noi. Procuratevi un cavolo broccolo, due carote, un cavolfiore, quattro patate viola, due coste di sedano, il succo di un limone, olio, sale e pepe. Per le palline di ricotta, invece, occorrono 600 grammi di ricotta, 100 grammi di grana grattugiato, 150 grammi di noci polverizzate. Dobbiamo tagliare a cubettini. Facci vedere, Imma, quindi come tagliamo. Allora, innanzitutto distribuiamoci equamente. Sì, io già sono andata per conto mio. Ok. Mi sono proprio presa il lavoro. Don Domenico. Domenico, gli diamo il broccolo, che dobbiamo ridurre a cimette. Allora, facci vedere come si fa, dai, così lo facciamo subito, perché stiamo preparando la macedonia di verdure. Voi dite che cosa ci si farà con questa macedonia di verdure? Imma sta ricreando l'estate in tavola, quindi in tutte le stagioni possiamo proporre un piatto dal sapore estivo e vi faremo vedere poi il perché. Allora, lei ci mette la giusta dimensione. Sì. Sarebbe questa, in questo modo. Ecco. Ti prendo una ciotola per mettere tutte le verdure? Sì, le potremmo mettere anche... Perché tanto vanno messe poi tutte insieme, giusto? Allora, queste vanno lessate. Sì. Insieme, ma nel giusto ordine. Nel giusto ordine, quindi. Nel senso che per prima cosa vanno lessate le patate. Sì. Che è quello per cui ci vuole più tempo. Certo. Poi mettiamo le carote. Sì. Poi mettiamo il sedano. Sì. Il cavolfiore. Sì. E poi togliamo tutto dall'interno. Sì. E mettiamo il broccolo. Il broccolo alla fine perché così... Va a sporcare l'acqua. Sì, certo. E non sporca le altre verdure. Bene. Mamma mia, Don Domenico, che precisione questa ragazza. Dobbiamo imparare da lei proprio per la capacità di fare le cose proprio con ordine. Con ordine. Io sto facendo carote e sedano a cubetti. Esattamente. E poi anche fai un pochino di patata. Don Domenico gliele do a lui. Prego, Don Domenico. Don Domenico, facciamo una patata a cubetti e poi andiamo a lessare tutti i nostri ingredienti. E nel frattempo andiamo a vedere chi è lo chef che cucina oggi con Fabiola. Eccomi in cucina con uno chef stellato. Domenico stile di Enoteca La Torre a Villa Letizia. Vediamo che cosa ci sta preparando oggi. Allora, prepariamo questa sorta di contorno che è un'insalatina molto particolare, molto aromatica, dove abbiamo circa 20-25 tipi di erbe, fiori, germogli diversi che andiamo a condire in modo un po' simpatico. Bene, facci vedere. Semplicemente sale. Questo è un sale? Sale Maldon sempre. Ok. Che è molto piacevole perché becchi, diciamo, il granello di sale sotto i denti che ti dà quella spinta sapida a tratti. Sì, poi hai aggiunto dell'olio. Sì, olio. Aceto di mela annurca, che è una mela tipica campana. Conosciamo, buonissima e dolcissima. Sì, molto molto buona. Semi di sesamo tostati. Condiamo così semplicemente. Sì, semplice. Semplice, molto piacevole perché poi tutte le varietà di erbette ti danno comunque sfumature diverse. Sfumature diverse. Sfumature diverse. Una più amara, altre molto balsamiche, altre molto acidule, tipo un asturzio. Quindi è molto molto bella come insalata. Presca. Sì, nocciole tostate. Sì, nocciole tostate. Aggiungiamo con la nocciola. La nocciola. E con semplicemente una mila verde tagliata a fettine. di una precisione chirurgica. Un piatto bellissimo, semplicissimo. da fare a fare a casa. Sì, è anche profumato perché io sento un profumo delizioso. Quindi a questo punto, prima di assaggiare, vi saluto. Ciao. Ciao. Buonissima ricetta, come il solito. E guardate qui invece, Imma, che piatto coloratissimo che ha fatto. Hai mantenuto la promessa di una puntata super colorata, vero, signori assaggiatori? Allora, l'acqua sta bollendo e vediamo di tuffarci le verdure. Quindi, come ci ha spiegato Imma, facciamo prima le patate. Patate e poi le carote. Quindi, patate e carote, quanto devono bollire? Dacci i tempi proprio tecnici da fare a casa. Allora, patate e carote, siamo sulla ventina di minuti. Venti minuti. Sì. Poi dopo, aggiungete il sedano. Aggiungiamo il sedano. Sì. Poi il cavolfiore. Sì. E le scoliamo. Bene. Rimaniamo sempre la stessa acqua, dove tufferemo i cavoli. I cavoli, quindi proprio alla fine. Bene, ma siccome non abbiamo tempo, lasciamo tutto a Don Domenico. Facciamo qua, che comunque, Don Domenico, tuffate un poco per volta e facciamo proprio una macedonia nel vero senso della parola. Va bene. Noi torniamo qua, perché invece dobbiamo preparare la polvere, giusto? Sì. La polvere di noci. Quindi, abbiamo detto, quante noci mettiamo? 150. 150 grammi va benissimo. Per questa ricetta e andiamo a frullare. Ecco qui, una volta ottenuta una bella polvere, la mettiamo in un piatto, perché adesso andiamo a preparare le palline di ricotta. Quindi questa è una ricetta anche di quelle molto carine per un aperitivo. Sì, un antipasto. Infatti. Anche va bene. Allora. Si potrebbero creare addirittura dei finger. È vero. Cioè delle mini porzioni, monoporzioni. Sì. Con questa tipologia di ricetta. Ti do una ciotola, già ce l'hai, una ciotola per preparare adesso la crema per farci le palline. Quindi utilizziamo 600 grammi di ricotta, la ricetta intera. Esattamente. Quindi la ricotta ben asciutta, aggiungiamo il parmigiano, quindi 100 grammi. Sì. E poi basta, e così facciamo le palline. Ecco, creiamo le palline. Quindi ti prendo un piatto per metterci le palline. Che passeremo poi nella nostra... Nella granella. Nella granella di nocci. Allora, facci vedere come fai queste palline. Signori assaggiatori, che cosa state assaggiando che non abbiamo ancora pronto? No. Dove stanno? Che state assaggiando? Stiamo assaggiando la crespella che ha fatto Imma. Ah, perché era pronta. Era pronta. Noi l'abbiamo sempre pronta, è buonissima, è stupenda. Come fanno a sfuggire le cose. Soltanto che io non ho capito perché a lei è capitato il salmone a mezzo chino. Posso fare una domanda ad Imma? Certo. Imma, scusa, secondo te hai parlato di ricore e di ordine, ma secondo te qual è la qualità più necessaria per chi vuole intraprendere ed entrare nell'attività della ristorazione? L'umiltà. Quella è una caratteristica che deve essere alla base e non deve essere mai persa durante il corso della propria carriera. Perché c'è sempre, sempre da imparare. Ci sono sempre nuove tecniche, ci sono sempre nuovi stili e quindi deve essere alla base. Vedi, Anna Maria, l'umiltà. Tu non hai un altro pedale. No, io sono contenta di aver dato il mio piccolo contributo a Imma e quindi sono molto buone e gustose. E il salmone è toccato le signore oggi. Anche perché lei aveva dato una mano, un premio ci voleva. Tra l'altro io non mi ero accorta perché in questa cucina mi sfuggono varie cose che le avevate già prese dal forno. Eccole qui pronte, guardate che meraviglia queste crespelle. Brava, brava Imma. Don Domenico, vogliamo scolare anche le verdure? Che ovviamente hanno bisogno del loro tempo ma noi le scoliamo. Quindi perché siamo quasi alla fine della ricetta. Vanno passate nella polvere di noci. Tu Imma, insomma, dicevamo appunto dell'umiltà e cosa che hai trasmesso ai tuoi bellissimi tre figli. Che si chiamano, dicelo. Allora, Michele, te li dico in ordine, in ordine di grandezza, Michele, Vincenzo e Silvana. E Silvana, che sono tre bellissimi ragazzi, guardate che meravigliosa foto. E questa umiltà la metti soprattutto in un tuo progetto che si sta concretizzando, che è una scuola di cucina. Quindi tu vuoi aprire, far conoscere le tue arti a tutte perché sei una persona generosa, vuoi insegnare a cucinare a tutti coloro che ne hanno il desiderio, giusto? Esattamente. Sì, creare un luogo dove chi già cucina può acquisire nuove tecniche. Cioè, chi invece vuole imparare riuscirà a partire anche dalle basi. Quindi, insomma, tutti nella cucina di Imma, Don Domenico, io e gli assaggiatori siamo i primi prenotati, perché vogliamo imparare queste tecniche nuove e soprattutto il suo modo rigoroso di cucinare cose squisite. Prima di impiattare dobbiamo condire la nostra macedonia con un'emulsione, una semplice emulsione. Allora, con il succo di mezzo limone, che facciamo spremere a Don Domenico. Succo di mezzo limone. Di un limone, di mezzo limone, insomma. Certo. Ok, poi prendiamo l'olio. Sì. Il sale. Olio, sale e pepe. Benissimo. Qui la quantità necessaria è quella in base alle verdure. Certo. Diciamo, ci si regola un po' a occhio. Prendiamo una frusta. Sì. Il sale. Quindi olio, sale, pepe, succo di limone. E facciamo una bella emulsione. Quindi la ricetta deve essere ancora finita, ma noi ripassiamo insieme i passaggi che abbiamo fatto finora. Per le crespelle con farina di ceci, tritate lo scalogno e tagliate le zucchine a rondelle. In una padella fate soffriggere lo scalogno, aggiungete le zucchine e lasciate cuocere. Preparate la pastella. Mescolate in una ciotola le farine con il latte, le uova e un pizzico di sale. Scaldate un padellino antiaderente, versate il composto e fate le crespelle fino a terminare l'impasto. Preparate la crema. In una ciotola mescolate la ricotta con il formaggio e la panna da cucina e tenete da parte. Spalmate la crema di ricotta su metà crespella. Sistemate le zucchine sul lato destro e il salmone sul lato sinistro. Piegate a portafogli, mettete in una pirofila e infornate a 180 gradi per 15 minuti. Per le palline di ricotta con macedonia di verdure, tagliate a pezzetti le verdure, le carote, il sedano, le patate viola e a cimette i broccoli e il cavolfiore. Fate bollire in acqua salata un po' per volta. Scolate le verdure al dente. Create un'emulsione con l'olio, il succo del limone, il sale e una macinata di pepe. Preparate le palline, schiacciate la ricotta con una forchetta, aggiungete il grana e impastate. Formate le palline aiutandovi con le mani. Frullate le noci fino a formare una polvere e passate le palline nella polvere di noce. E poi la ricetta deve essere conclusa ma ascoltiamo come il solito prima le parole del nostro Don Domenico. Un pensiero di Santa Teresa di Calcutta Sorridete sempre Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno? Sorridetevi gli uni gli altri, ai vostri figli, alle persone con le quali lavorate, a chi vi comanda. Sorridetevi a vicenda. Questo vi aiuterà a crescere nell'amore perché il sorriso è il frutto dell'amore. Intanto vorrei dire che il monaco di per sé è proprio la persona del sorriso, dell'allegria. Deve avere sempre un volto sereno perché è la cosa che più impressiona quando le persone guardano a un monaco o a un religioso qualsiasi. Ma questo naturalmente non vale soltanto per noi, vale per tutti quanti. Quindi io faccio mio il pensiero di Santa Teresa e dico anche a voi sorridete sempre. Sorridete ai figli, alle persone che vi stanno accanto, alle persone che vi comandano. Ma è importante perché solo in questo modo si cresce nell'amore. Bellissimo, allora sempre col sorriso. E con il sorriso finiamo questa coloratissima ricetta. Vai, Imma. Con l'emulsione che abbiamo preparato andiamo a condire la nostra macedonia di verdura. Ecco. Ma qui ci possiamo anche bizzarrire un po' sulla scelta delle verdure, vero? Esattamente. Sì, sì, sì. Quindi se la vogliamo fare magari in periodo estivo possiamo mettere melanzane. Esattamente, sì. Peperoni. Anche i peperoni gialli, rossi. Sì, sì. Possiamo servirla nelle coppette, quelle che ognuno ha in casa per la macedonia, che magari ti regalano e non hai mai usato. Sì. Li mettiamo nelle coppettine della macedonia. Che non si usano mai. Della macedonia. Giusto. Quindi creiamo delle porzioni singole. Certo. E poi? E sopra? Come un gelato. Uh, le palline che sembrano palline di gelato. Mettiamo le palline di ricotta. Come se fossero. Palline di ricotta ripassate nella granella, nella polvere di noci. Ma insomma, una delizia questa ricetta, eh. Imma, sei proprio spettacolare. Don Domenico, facciamo un augurio a Imma, con tutto il cuore da quel che passa il convento, che la sua scuola di cucina abbia il massimo del successo. E che sia quindi ricercata da tutti, perché con una maestra d'eccezione potrete imparare veramente tantissime buonissime cose. E allora, brava Imma, ti ringraziamo per essere stata con noi. Salutiamo i nostri assaggiatori, che assaggiano sempre di più. Don Domenico, carissimo. E tutti voi a casa, che ci seguite sempre con affetto. Alla prossima ricetta. Arrivederci.